Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi 45 minuti, devo prendere lezione e ci vediamo dopo per commentare il progetto del match, buon divertimento. Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi. Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi. Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi. Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi. Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi. Perfetto, allora io rimandata a scuola, ovvero nei prossimi. Salahkah bila semua selalu tentangmu Ijinkan agar ku sampaikan Ku tahu malam kau dengannya Terima kasih telah menonton Apa yang ku rasa Menari bersamaku Bersalah dan cinta Menari bersamaku Kembali ke akhir waktu Jalanin bersamaku Tak ada yang selamanya Terima kasih telah menonton 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 Grazie. 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 Grazie.